Adele Bei, coniugata Sufoli, sindacalista e politica, nata a Cantiano il 4 maggio 1904 e morta a Roma il 15 ottobre 1976, è stata una componente dell'Assemblea Costituente, senatrice e deputata del Partito Comunista Italiano. Nata in una famiglia povera, operaia e fortemente politicizzata, nel 1920 sposò Domenico Sufoli, uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia. Poi, entrata anche lei nel partito nel 1925, espatriò con il marito in Francia, da dove compì numerosi viaggi clandestini in Italia per svolgere attività di collegamento tra militanti antifascisti. Nel 1933 venne arrestata e condannata dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato a 18 anni di reclusione. Ne scontò sette anni e mezzo, cui si aggiunsero due e mezzo di confino e fu liberata nell'agosto del 1943. Poi, dopo l'8 settembre 1943, partecipò alla lotta partigiana a Roma, con il compito di organizzare le masse femminili. Insieme alle altre dirigenti del Partito Comunista clandestino, Adele Bey ideò e organizzò gli assalti delle donne romane ai forni, evitando le comunicazioni telefoniche, coinvolgendo il maggior numero di donne possibili, grazie al passaparola, semplicemente. Purtroppo l'azione si concluse in maniera cruenta in due assalti, uno con l'uccisione di Caterina Martinelli, madre di sei figli, per uno sfilatino nella borsa della spesa e un altro con l'eccidio di ben dieci donne presso il ponte dell'industria. Dopo la liberazione, Adele Bey entrò a far parte della consulta nazionale su designazione della CGL. Nel primo congresso della CGL tenutosi a Firenze nel giugno del 1947, mentre la CGL aveva firmato un accordo con gli industriali per portare il salario delle donne al 70% di quello degli uomini, quando la normativa fascista prevedeva un taglio addirittura del 50%, Adele presentò la carta della lavoratrice in cui veniva richiesto che le donne a parità di lavoro ricevessero la stessa retribuzione degli uomini. Il 2 giugno 1946 fu tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente Italiana, dove si dette come componente del gruppo parlamentare comunista. In particolare lavorò nella terza commissione per l'esame dei disegni di legge. Successivamente entrò al Senato nella prima legislatura dal 1948 al 1953, unica donna fra i 106 senatori di diritto. Fu poi eletta alla Camera dei Deputati, sempre nelle file del Partito Comunista, nella seconda legislatura dal 1953 al 1958 e infine nella terza legislatura dal 1958 al 1963. Come componente della decima commissione lavoro si impegnò a forte difesa delle categorie di lavoratrici donne più disagiate, mondariso, tabacchine, operai agricole, chiamata poi anche a dirigere il sindacato dei lavoratori delle foglie di tabacco, composto in maggioranza di lavoratrici donne dal 1951 al 1960. Sostenne quindi con forza le loro battaglie ottenendo nel 1957 un aumento di salario e misure previdenziali simili a quelle degli altri lavoratori.